Si parlerà anche della situazione dei residui attivi sollevata dal Movimento 5 Stelle nella trasmissione Tolentino Criticità e Punti di Forza per una città che vuole crescere, in onda venerdì 20 marzo alle 21.15 sul Canale 14. Ospiti studio intervistati da Barbara Olmai, Giuseppe Cicconi, capogruppo della Lega Nord, Henry Gullini, capogruppo della Democrazia Cristiana, Bruno Prugni, capogruppo del Partito Democratico e Gianmario Mercorelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Nel corso dell'ultima puntata dedicata alle diverse tematiche di interesse per la città verranno affrontate anche altre questioni come la sicurezza, con particolare riferimento all'installazione delle telecamere di videosorveglianza e al recente acquisto di un autovelox. Spazio anche alle tematiche ambientali e ai progetti riguardanti le opere pubbliche. La puntata verrà trasmessa in replica anche sabato 21 marzo alle ore 15.